Potenziali sistemi di videosorveglianza cittadini incentivando nell'acquisto attraverso contributi pubblici o altre misure di incentivazione sul piano fiscale previste in favore dei negozianti. Le telecamere private insieme a quelle pubbliche installate dal comune saranno in costante comunicazione e creeranno una rete. Questi alcuni dei punti stabiliti nel corso di una riunione che si è svolta ieri in prefettura a Foggia convocata ad urgenza alla luce dell'omicidio della titolare della tabaccheria Franca Marasco uccisa a lunedì durante un tentativo di rapina. Alla riunione prefetto, valianti, vertici delle forze dell'ordine e rappresentanti delle associazioni di categoria. A dane notizia un comunicato della Confcommercio Foggia. Importanti si legge anche le opere di riqualificazione urbane, gli interventi concreti che migliorino la qualità della vita dei foggiani. E' chiaro, continua ancora la nota, che solo la collaborazione fattiva tra istituzioni, società civile, tessuto socio-economico e produttivo del territorio, potrà condurre al conseguimento degli obiettivi prefissati. E in tale direzione, forte convinto è l'impegno delle associazioni di categorie della Camera di Commercio ad affiancare istituzioni e forze di polizia nella fondamentale opera di rigenerazione culturale. In seno al tavolo permanente, che si è concordato di istituire in coerenza con gli impegni già assunti durante il patto della sicurezza urbana, firmato il 6 febbraio scorso alla presenza del ministro Matteo Piantedosi.